In studio con Luigi Abate, a colpo d'occhio, stiamo vedendo le immagini anche del congresso, c'è una grossa partecipazione, al di là poi degli iscritti storici, perché Luigi io ricordo dei congressi di qualche anno fa, semi vuoti, c'era la metà della sala dell'altra sera, quindi già è un buon primo risultato per... Potrei dire qualcosa. Forse Italia. Però c'erano soprattutto tanti volti noti, ho fatto notare anche nel TG, no? Cioè anche la dottoressa Gira, che ad esempio guida una partecipata del comune di Taranto, e poi sindacalisti di diverse aree politiche, di riferimento chiaramente ispirazionale, enti, insomma c'era davvero una partecipazione anche trasversale, che segnale ti dà questa partecipazione? Intanto sorridevo e sorrido, perché noto come soprattutto i partiti di centrodestra, di Taranto, penso a Forza Italia, penso alla Lega, penso a Fratelli d'Italia... Che erano presenti oltre città. Sì, 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 no, ma Taranto città, Taranto città, dal punto di vista politico, è diventata la cenerentola dei comuni della provincia. Non dobbiamo fare certo la guerra tra il comune di Taranto e gli altri comuni, per carità di Dio, però io penso che la città di Taranto, Taranto città, il capoluogo ionico, sia stato fagocitato, sia stato avviluppato, sia stato politicamente sbranato dalle mire politiche, dagli interessi politici dei comuni, dei leader, dei rappresentanti dei comuni della provincia. Non a caso... Basta vedere il nuovo coordinatore di Forza Italia, che arriva da Castellanet, il coordinatore di Forza Italia, che viene da Gino De Palma, che è una brava persona, lo conosco, nulla da dire. Gigi la terza, coordinatore della Lega. Quindi Pulsano. Pulsano. Iaia, coordinatore di Fratelli d'Italia. Siamo a Sava. Scusatemi, il centro-destra a Taranto non esiste e secondo me c'è un piano ancora maggiore, perché ovviamente anche politicamente, parliamoci chiaro perché non è che siamo ingeni, conviene al centro-destra, ai maggiorenti del partito che vengono dalla provincia, che Taranto resti nana, perché chiaramente se Taranto politicamente, Taranto città, resta nana, beh per loro ci sono maggiori spazi di crescita. Se io sono alto 1,70, faccio la metafora, tutto il rispetto, però per me il livello politico, non personale politico, dei dirigenti del centro-destra è 1,70. Allora se io sono alto 1,70 avrei paura che a Taranto possa crescere un giovane che diventa 1,90, preferisco avere un partito che navighi con esponenti da 1,60 politicamente, parlando politicamente. D'altronde basta vedere la sala, erano la maggior parte dei comuni della provincia e poi c'erano altri, come dire, chiamiamoli volti storici, io simpaticamente dico cariatidi, anche dell'epoca dell'amministrazione di Bello, massimo rispetto vedo Umberto Ingrosso, nulla di personale per Umberto, che è una persona anche simpatica, per carità di Dio, ma io dico scusate, ma… Insomma, sembra che i leader di centro-destra, Tarantini, di Taranto città si siano fermati alla compianta Rossana di Bello. Allora il discorso è questo, il centro-destra ha raggiunto l'apice con Rossana di Bello, che ha conquistato la città… Stiamo parlando di vent'anni fa. Di vent'anni fa. Alla fine, c'è stato certamente, e questo non bisogna dimenticarlo, la mia è una critica politica, una critica, massimo rispetto per la dottoressa Rossana di Bello, che non c'è più, massimo rispetto alla persona, la memoria è sacra, per carità di Dio, però non dimentichiamoci che quell'amministrazione ha portato Taranto nel peggiore disastro, nel peggiore dissesto finanziario della storia italiana. Ora non ci si può rifare una verginità politica, c'è una storia che parla.